Io volevo fare un intervento Un intervento che ha un duplice carattere. C'è una parte che spero sia abbastanza sintetica di natura scientifica, cioè andremo un po' su qualche dettaglio riguardante ciò che succede a livello dei nuclei quando proviamo a intervenire dall'esterno, e una parte di natura storica, di natura etica, in relazione alle applicazioni tecnologiche che queste conoscenze possono avere. In particolare il problema che si è posto proprio a cavallo tra le due guerre, poi a seconda guerra mondiale iniziata, su alcune applicazioni, in alcuni casi devastanti, di queste conoscenze. Volevo iniziare parlando di ordini di grandezza, perché sono un po' lo strumento che ci permette di capire su quale scala si lavora e su quali sono le conseguenze, soprattutto quando si parla di energie coinvolte. In particolare, volevo qui sottolineare la differenza tra ciò che riguarda la scala atomica e la scala nucleare. Finché parliamo di dimensioni geometriche, gli ordini di grandezza sono qui visibili, li conosciamo bene. 10 alla meno 10 metri è un po' la scala che rappresenta le dimensioni atomiche, 10 alla meno 15 metri è la scala che rappresenta le dimensioni del nucleo. Finché rimaniamo sulle dimensioni geometriche, già sappiamo che i cinque ordini di grandezza di differenza fanno sì che il mondo dell'atomo e il mondo del nucleo sono due mondi abbastanza nettamente separati. Quindi, volevo far vedere cosa significa questo in termini di energia. Non andremo in tutti i dettagli necessari per poter capire quanto valgono le energie di legame coinvolte in una struttura come l'atomo e in una struttura come il nucleo, però abbiamo un modo molto semplice per capire in ordine di grandezza quello che succede. Quella che ho scritto qui a sinistra è l'espressione dell'energia potenziale in un'interazione di natura elettrostatica quando abbiamo due cariche Q1 e Q2. Chiaramente le cariche con cui abbiamo a che fare sono essenzialmente multipli interi della carica elementare, parliamo di elettroni o di protoni, e quindi l'ordine di grandezza di queste cariche è stabilito ed è lo stesso, sia che si parli di atomi, sia che si parli di nuclei. Ciò che cambia chiaramente è il valore della distanza coinvolta e di conseguenza l'ordine di grandezza. Scusatemi, c'è un piccolo errore nella formula che devo correggere. Non c'è il quadrato nell'espressione dell'energia, altrimenti non ci siamo dimensionalmente. Comunque sia, la distanza dal denominatore fa sì che a scale più piccole, cioè 10 alla meno 15 metri, necessariamente le energie coinvolte sono più grandi. E infatti, se andiamo a vedere, io qui ho messo un punto interrogativo sui valori di queste energie, farei brevemente vedere cosa succede quando facciamo i calcoli. Cioè, se mettiamo i numeri conosciuti, la carica elementare la conosciamo, il valore di K0 per la formula dell'energia potenziale elettrostatica lo conosciamo, se fate il prodotto di K0 per il quadrato della carica elementare, dividete, quello che avevo fatto è inserire il valore della carica elementare che vedete qui, 1,6 per 10 alla meno 19, il valore di K0 che è 9 per 10 alla 9, lo abbiamo imparato nelle lezioni di elettrostatica l'anno scorso, la risposta che abbiamo sul valore dell'energia è di 2 per 10 alla meno 18, quindi questo 10 alla meno 18 rappresenta l'ordine di grandezza che mettiamo qui sulle energie tipiche di una scala atomica. È chiaro che variando di 5 ordini di grandezza soltanto la distanza, abbiamo una risposta anche per la scala del nucleo, dove invece l'ordine di grandezza sale da 10 alla meno 18 a 10 alla meno 13, e questo ovviamente è espresso in Joule. Spesso le unità di misura utilizzate per problemi di natura atomica e nucleare sono un po' diverse. Utilizziamo l'elettronvolt o dei multipli, e qui ho rappresentato le scale rappresentate in elettronvolt o in mega elettronvolt per quanto riguarda i nuclei. Un mega elettronvolt corrisponde a quei 10 alla meno 13 che avevo qui rappresentato, un elettronvolt che è un po' una scala dell'energia coinvolta negli atomi e 10 alla meno 19. Vedete questi 5-6 ordini di grandezza di differenza. Questo grafico dovrebbe esservi familiare, rappresenta quella che si chiama energia di legame per nucleone. Per le diverse specie dei nuclei, sull'asse delle ascisse vedete il numero di massa, quindi il numero di nucleoni all'interno del nucleo, e come vedete la scala finisce intorno a 250-260 per gli ultimi nuclei la cui presenza viene rilevata in natura. E sull'asse delle ordinate avete il valore in mega elettronvolt per l'energia di legame. Come vedete la maggior parte dei nuclei ha un'energia di legame che oscilla tra gli 8 e i 9 mega elettronvolt per ogni nucleone presente. Però c'è qualche leggera differenza, in particolare c'è un picco in corrispondenza del ferro, che risulta essere il nucleo più legato in assoluto, il più stabile, e poi una progressiva discesa per i nuclei più pesanti. Questo conferisce un carattere di maggiore instabilità ai nuclei più pesanti e anche il fatto che se si rompe un nucleo pesante producendo nuclei più leggeri è possibile produrre energia formando particelle maggiormente legate. Ovviamente viceversa, fondendo particelle leggere verso nuclei più pesanti è anche possibile produrre energia. Se ci riferiamo alle reazioni che avvengono in chimica, le reazioni chimiche hanno a che fare con trasformazioni su scala atomica, cioè i nuclei fanno da spettatori più o meno indisturbati, vengono coinvolte le strutture elettroniche esterne. Qui ho fatto un esempio che tutti conosciamo, cioè la reazione fra idrogeno molecolare e ossigeno che produce acqua. L'energia coinvolta ha un valore che è dell'ordine di qualche elettronvolt. Questo conferisce alle reazioni chimiche, alle sostanze che possono essere bruciate in presenza di ossigeno. Ovviamente questo è solo un esempio, ma l'ordine di grandezza che stiamo scrivendo quando vale praticamente per qualsiasi combustibile convenzionale di natura chimica, dà luogo a quello che chiamiamo potere calorifico, inteso come quantità di energia che possiamo ottenere bruciando una sostanza per via chimica, per ogni chilogrammo di quella sostanza bruciata. Con questi 5,93 elettronvolt possiamo avere un'idea abbastanza chiara di quale è il potere calorifico, ad esempio per l'idrogeno e l'ossigeno insieme, quando andiamo a bruciare un chilogrammo di questa sostanza, con un'energia che scriviamo essere uguale a 6 elettronvolt all'incirca, inseriamo la carica elementare per averla in joule, la stessa energia, se la dividiamo per la massa molecolare di idrogeno e ossigeno messi insieme, abbiamo un 2 per l'idrogeno e un 32 per l'ossigeno e dobbiamo inserire chiaramente l'unità di massa atomica, altrimenti non otteniamo il valore corretto, viene fuori un 10 alla 7 come ordine di grandezza del potere calorifico. Cosa vuol dire questo 10 alla 7? 10 alla 7 significa abbiamo 10 alla 7 joule per ogni chilogrammo di sostanza bruciata, praticamente prendiamo un chilogrammo di queste sostanze messe insieme e produciamo circa 10 milioni di joule, per quanto grande possa sembrare questa energia, se pensate alle necessità che può avere una società, una città, uno stato nel produrre energia, in realtà le quantità sono molto più grandi di questa, quindi significa che per poter produrre energia a sufficienza per tutti è necessario bruciare grandi quantità di queste sostanze. Cosa succede se invece facciamo intervenire trasformazioni, trasmutazioni e interventi su scala nucleare e non più atomica. Le energie coinvolte sono molto diverse. Qui come esempio ho preso qualcosa che abbiamo già esaminato ieri nelle scorse lezioni di fisica, cioè un processo di decadimento spontaneo. Ho preso ad esempio l'uranio 238, che è abbastanza famoso, è un elemento pesante, instabile, che decade con l'emissione di una particella alfa, cioè di un nucleo di elio, trasformandosi in torio 234, a sua volta instabile che emetterà altre particelle alfa, però in questo processo viene anche prodotta energia. E allora, come sapete, l'uranio 238 spontaneamente diventa torio 234, con l'emissione di una particella alfa. L'energia prodotta in questo processo, che poi viene messa sotto forma essenzialmente di energia cinetica delle particelle e più altre cose, che per il momento non sto ad approfondire, può essere calcolata tenendo conto delle masse dei reagenti e dei prodotti di reazione. Facendo la differenza tra la massa dell'uranio 238 e la somma delle masse del torio e della particella alfa, non si ha come risultato zero. Questa differenza di massa si traduce, attraverso la relazione massa-energia, che viene fuori dalla relatività, in un quantitativo di energia, che qui, per questa particolare reazione dell'ordine di 4, mega elettronvolt. Ecco che questo mega, che significa 10 alla 6, avete una chiara idea che gli ordini di grandezza, quando parliamo di reazioni chimiche e di reazioni nucleari, sono molto molto diversi. Che cosa significa questo in termini di potere calorifico? Significa che, se andiamo a considerare un chilogrammo di una sostanza reagente, in questo caso l'uranio, andiamo a vedere quanta energia produce, l'ordine di grandezza cambia sensibilmente. Non faccio i calcoli dettagliati, ma da 10 alla 7 passiamo a 10 alla 12, 10 alla 13. Qui segno 10 alla 13, avevo fatto il calcolo prima, lo do un po' per scontato, anche per ragioni di sintesi. 10 alla 13 joule per ogni chilogrammo di sostanza coinvolta. Questo numeretto che vedete qui, questo esponente, ci dice che quando facciamo trasformare fra loro, interagire fra loro dei nuclei, e le energie coinvolte a parità di quantità di sostanza utilizzata, sono completamente diverse. Fanno sì che, sia in termini di fabbisogno energetico, che di altri utilizzi che purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati fatti utilizzando proprio questi processi qui, si ha a che fare con un problema fondamentale. La quantità di energia prodotta è tale da poter avere effetti che possono essere devastanti se non opportunamente controllati. Questo, al di là del fenomeno fisico di per sé, richiede un notevole grado di responsabilità quando si comincia a manipolare la natura in questi termini. Vorrei sottolineare un fatto. Fino adesso però stiamo esaminando un processo spontaneo, cioè l'uranio che si trasforma in torio succede in natura, l'uranio è presente, e ha un tempo di ricadimento molto lungo. Se andiamo a guardare... E adesso dovrebbe comparire la carta d'identità dell'uranio, ecco qui, con i suoi isotopi. Andiamo a scorrere la tabella dei molti isotopi dell'uranio. Il 238 ha un tempo di decadimento di 4,9 anni, il che significa che esiste in natura e pian piano decade. E' anche, diciamo, l'isotopo dominante per quanto riguarda le quantità di uranio presenti in natura. Siamo a oltre il 99%. Cosa vuol dire un tempo di decadimento così lungo? Che se volessimo utilizzare questa energia per qualsiasi scopo, in realtà dovremmo stare lì ad aspettare che l'uranio decade. Non è molto pratico. Nonostante in ogni decadimento venga prodotta una grande quantità di energia specifica, poi per avere effettivamente un chilogrammo di uranio che subisce trasformazione, non possiamo aspettare 4 miliardi di anni. Ecco perché se si vuole utilizzare l'energia coinvolta nelle trasformazioni nucleari, queste trasformazioni in qualche modo devono essere accelerate e indotte. E qui, a cavallo fra le due guerre, c'è stato uno sviluppo veramente notevole sulle conoscenze che riguardano i processi a livello del nucleo. Non sto qui ad elencare tutti i protagonisti di questo progresso scientifico, di questo processo nelle conoscenze, di questo progresso nelle conoscenze. Vi indico soltanto che le reazioni, per esempio, per l'uranio 235, che è un altro isotopo meno abbondante dell'uranio, possono essere indotte bombardando la materia con neutroni. I neutroni possono indurre la formazione di un nucleo estremamente instabile, perché l'uranio 236 è un composto estremamente instabile come nucleo, e facilmente si frammenta in due altri nuclei, che qui ho indicato genericamente come X e Y, perché il risultato non è predeterminato, ci sono soltanto calcoli probabilistici che possono essere fatti, che sono in generale più leggeri. E ho indicato qui più neutroni, più energia. Perché più neutroni? Vi faccio vedere un momento. E allora, se andiamo a guardare adesso la tavola delle specie nucleari stabili, che sono queste rappresentate in un grafico con numero di protoni e numero di neutroni, vedete che per nuclei via via più pesanti, l'uguaglianza nel numero di neutroni e nel numero di protoni, che di solito conferisce stabilità al nucleo, si perde. Per nuclei più pesanti è necessario che ci siano più neutroni che protoni, il che significa che se voi spezzate un nucleo molto pesante, come il nucleo di uranio, in specie più leggere, le specie che vengono a formarsi hanno un rapporto neutroni-protoni a vantaggio più dei protoni, il che significa che ci sono un certo numero di neutroni in eccesso, che voi trovate come particelle espulse in modo singolo. Questo tipo di reazioni quindi produce neutroni. Qui ho riportato uno dei possibili esempi, un nucleo di uranio 235 che si spezza in vario 141 e krypton 92, producendo tre neutroni. L'emissione di questi neutroni è un elemento chiave che è stato individuato perché i neutroni così prodotti possono andare ad innescare altre reazioni colpendo altri nuclei di uranio 235, generando un effetto di moltiplicazione a catena di natura esponenziale, se c'è abbastanza uranio 235 nei paraggi, in quella che tecnicamente viene chiamata massa critica della quantità di uranio. Adesso vi faccio vedere quello che succede nell'innesco della reazione a catena. Vi faccio vedere un grafico qui a destra. Rappresenta la distribuzione delle masse dei frammenti di uranio 235 a fissione innescata. Come vedete ci sono dei picchi intorno a 90, intorno a 140. significa che l'esempio di poco fa in cui abbiamo visto l'uranio che si frammenta in un nucleo con massa 92 e un nucleo con massa 141 è ciò che probabilisticamente succede più di frequente. A sinistra invece avete una rappresentazione molto schematica del processo di reazione a catena. Un nucleo di uranio viene bombardato da un neutrone, si rompe in due frammenti di masse leggermente diverse, producendo altri neutroni. Questi neutroni colpiscono altri nuclei di uranio 235 che a loro volta si frammentano e così via, innescando un processo di moltiplicazione dei neutroni prodotti e della conseguente emissione di frammenti. Ad ogni frammentazione avete anche una produzione di energia e la crescita esponenziale del processo chiaramente richiede un certo tipo di controllo, altrimenti gli effetti possono essere veramente devastanti. Cerchiamo di capire cosa vuol dire esponenziale per poi convergere verso una discussione storica di ciò che ha portato questo tipo di conoscenza. Allora, indichiamo con tau un tempo. Supponiamo che sia il tempo caratteristico che rappresenta la durata tipica di una fissione. Di solito è un tempo estremamente breve, stiamo parlando di tempi dell'ordine 10 alla meno 4, 10 alla meno 5 secondi o anche meno. In alcuni casi possono essere tempi così brevi che la sequenza delle successive fissioni può evolversi in tempi sicuramente al di sotto del secondo. Se noi aspettiamo un tempo pari a tau, supponendo di partire da un solo neutrone e supponendo che la reazione di fissione ne produca altri due, dopo un tempo tau vi trovate con due neutroni e una fissione avvenuta. Se passiamo a un tempo 2 tau, questi due neutroni inducono altre due fissioni e di neutroni ne troviamo quattro. Dopo un tempo 3 tau andiamo a moltiplicare ancora per due il numero di neutroni. In pratica, se aspettiamo un tempo k volte tau, vi ritrovate con 2 elevato a k neutroni e il che, come vedete, vi dà luogo ad una crescita esponenziale. Questo k rappresenta il rapporto fra il tempo trascorso e il tempo caratteristico del processo, quindi 2 elevato a t su tau e la funzione esponenziale che ti dice quante fissioni di fatto sono avvenute dopo un tempo pari a t. e come vedete la crescita è esponenziale. Visto che conoscete bene le caratteristiche della funzione esponenziale, sapete che questo processo porta in tempi rapidissimi ad una crescita dell'ordine di grandezza dell'energia prodotta. Se la reazione avviene in modo incontrollato, il risultato può essere una vera e propria esplosione. La scoperta di questo processo, che io ho veramente riassunto in modo quasi indegno, ma i tempi sono questi, ha avuto chiaramente delle conseguenze molto pesanti. Qualcuno ha cominciato a porsi il problema di quali applicazioni potevano aversi. Al di là delle applicazioni civili, cioè sfruttare una grande quantità di energia utilizzando poco materiale, qualcuno, soprattutto considerando il periodo in cui queste scoperte hanno avuto luogo, si è immediatamente posto il problema di capire quali potevano essere le conseguenze belliche di una scoperta del genere. Perché ho messo le foto di questi due personaggi? Chiaramente Albert Einstein, sapete che ha formulato la teoria della relatività e ha capito la relazione massa-energia. Einstein non è stato l'unico protagonista di questa catena di conoscenze. Non si è occupato direttamente delle applicazioni, però sicuramente si è posto il problema. C'è una lettera che lui ha scritto su indicazione, una lettera che è stata ideata da Szilard, che era un altro fisico con nazionalità mista. La lettera fu scritta da Szilard e poi firmata da Einstein e indirizzata a Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti, riguardo ai possibili sviluppi nell'utilizzo bellico di quanto era stato scoperto in quel periodo. L'aspetto controverso di quella lettera, che sostanzialmente è un monito che Einstein indirizza a Roosevelt sulla possibilità che anche i tedeschi avessero in mano quel tipo di conoscenze. In qualche modo stimolava il governo americano a occuparsi in anticipo di eventuali applicazioni belliche, non perché Einstein fosse un guerrafondaio di qualche tipo, ma temendo che se un'arma del genere fosse finita in mani sbagliate, avrebbe potuto chiaramente causare conseguenze che potete facilmente immaginare. Io voglio farvi vedere un attimo un estratto di questa lettera, anzi è proprio la lettera completa, la prima di una serie di lettere che vennero scritte da Einstein a Roosevelt. Era scritta a macchina, ma se vedete in basso a destra c'è la firma di Albert Einstein, ed è indirizzata a Franklin Delano Roosevelt. Ho sottolineato alcuni passi importanti che vi leggo brevemente. It may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Qui sostanzialmente lo avvisa che l'uso dell'uranio nei processi di reazione a catena potrebbe generare proprietà simili a quelle del radio in grandi quantità. E poi ancora aggiunge In pratica gli dà un'idea molto vaga, ma sicuramente convincente, di quanto potrebbe essere pericoloso un ordigno costruito utilizzando questo tipo di processo. Fa l'esempio di un ordigno del genere che esplodendo vicino a un porto distrugge sostanzialmente l'intero porto e tutti gli edifici circostanti. La storia ci insegnerà che in realtà gli effetti saranno ancora più devastanti di questo. Considerate che questa lettera è stata scritta nel 1939. Il primo ordigno fu purtroppo utilizzato sei anni più tardi. Siamo qui in agosto, quindi esattamente sei anni più tardi. Quando il primo ordigno sperimentale venne fatto esplodere, Einstein si rese conto di cosa poteva succedere realmente se un ordigno del genere fosse stato lanciato contro della popolazione inerme. Il progetto Manhattan nel frattempo aveva prodotto purtroppo il suo nefasto oggetto di nuova generazione. Quello che vedete a destra, se lo vedete, vedete la scritta Progetto Manhattan e la foto a sinistra? Sì. Ok. Questo personaggio in particolare che vedete qui era il capo del progetto Manhattan. Era uno scienziato di fama mondiale, si chiama Hopnheimer, si chiamava Hopnheimer. Un illustre scienziato che aveva contribuito insieme ad altri come Enrico Fermi alla realizzazione dell'oggetto che vedete a destra. Purtroppo qua si vede un po' il cinismo di chi poi ha preso in mano, al di là dell'uso della scienza, ha preso in mano poi a progetto finito l'uso di questi ordigni. Venne chiamato in modo un po' cinico Little Boy, un altro analogo venne chiamato Fat Boy in relazione alla loro forma, come se si trattasse di nomignoli di un oggetto a cui si dava un po' il senso di un oggetto vivente, un po' un significato del genere, ma stiamo parlando di un oggetto che avrebbe ucciso da lì a poco moltissime persone. Purtroppo lo stesso Einstein, dopo aver inizialmente incitato il governo degli Stati Uniti a occuparsi del progetto Manhattan, prima ancora che l'ordigno venisse lanciato, aveva tentato di dissuadere Truman, che nel frattempo era diventato presidente alla morte di Roosevelt, dall'utilizzare realmente quell'ordigno, perché aveva capito, una volta visto il risultato del progetto, quale poteva essere l'effetto della popolazione inerme, sapeva che poteva dar luogo ad una catena di possibili conseguenze che avrebbero messo in pericolo l'intera umanità di lì a poco tempo, se pensate alla guerra fredda che ne è conseguita pochi anni dopo. Queste che vedete sono foto reali, che sono state scattate dall'aereo che lanciò la prima bomba sulla città di Hiroshima, in Giappone. Anche se sono in bianco e nero la loro forza, anche emotiva, deriva dal fatto che sono immagini vere, sono foto che sono state scattate dall'aereo che ha sganciato la prima bomba a Hiroshima. Foto in alto a sinistra è una veduta aerea, sembra quasi una cartolina turistica, in realtà fa vedere l'effetto sulla città dell'ordigno già esploso, come vedete è una città che sostanzialmente non c'è più. A destra vedete un particolare di uno degli edifici travolti dall'esplosione, è un edificio di culto, quindi in qualche modo dà maggiore forza alla potenza distruttiva del singolo ordigno che è stato lanciato. L'immagine più forte è quella in basso, c'è una delle persone sopravvissute, una delle poche sopravvissute all'esplosione, ai margini della città. Si vedono gli effetti devastanti su questa persona, di quelle che sono state all'esposizione, alla radiazione emessa durante l'esplosione. Vi faccio notare, non voglio sembrare cinico, ma tornando a alcuni aspetti tecnici, che il materiale fissile contenuto all'interno di questa bomba ammontava all'incirca 30-40 kg, quindi praticamente nulla rispetto a quello che era il peso delle normali bombe utilizzate durante i bombardamenti a tappeto che in larga parte sono stati utilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale. 30-40 kg di materiale fissile hanno avuto la capacità di distruggere un'intera città. Questo è l'effetto maledettamente realistico del cambiamento di ordini di grandezza quando passate da reazioni di natura chimica convenzionale a reazioni che coinvolgono i nuclei. Capite anche il livello di responsabilità etica che viene messo in mano dell'uomo quando la manipolazione artificiale di questi processi diventa realtà. Io con questo concluderei. Passerei la parola a tutti. Grazie 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 a tutti.